Benvenuti su Ultimissima. Una notizia ha sconvolto Aurora Ramazzotti in relazione al suo figlio, il giovane Cesare, causando un diffuso allarme e preoccupazione nel suo cerchio più intimo. Prima di cominciare ti invito ad iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nostri prossimi video. Un gesto semplice ma per noi molto importante. Grazie. Le vacanze natalizie di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono svolte in Messico, dove la coppia ha scelto di accogliere il nuovo anno lontano dall'Italia, in compagnia del loro piccolo Cesare. Tuttavia, sembra che qualcosa abbia preso una piega inaspettata per questa giovane famiglia. Decidendo di trascorrere le festività natalizie in Messico, la giovane coppia ha viaggiato con il loro piccolo Cesare. Nonostante un viaggio di 13 ore da Milano a città del Messico con sonni tranquilli per il bambino, una volta raggiunta la meta, Cesare ha cominciato a mostrare segni iniziali di stanchezza e malessere. Il membro più piccolo della famiglia, però, sembra non si sia divertito durante la vacanza, poiché ha iniziato a sentirsi male non appena è sbarcato in Messico. Cesare è stato afflitto da un'influenza che lo ha costretto a riposare per gran parte delle ferie. Amici noi siamo arrivato in Messico, non ve lo avevo ancora detto. Purtroppo siamo stati impegnati con Cesare che ha deciso di portarsi un virus influenzale dall'Italia. Nulla di grave, adesso si sta già riprendendo, siamo solo un po' lamentosi. E voi cosa ne pensate? Se vuoi esprimere la tua opinione, lascia un like e faccelo sapere in un commento. Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti i nuovi video.